La peste, se voi andate a vedere su un'enciclopedia o su wikipedia vi dirà che la peste è una malattia infettiva di origine batterica causata da un bacillo che si chiama Yersinia pestis. È una malattia di origine batterica. Io vi inviterei subito a riflettere su questo aspetto che è fondamentale. In questi mesi anche quelli di noi che sono meno portati per le materie scientifiche hanno imparato, per esempio, che c'è una gran differenza fra i batteri e i virus. Ora io mi scuso a priori con i medici che sicuramente ci saranno in sala, in sala, si dice sempre così, c'è un medico in sala, mi scuso con i medici per la rozzezza del ragionamento, ma quello che ho imparato io è che i virus, le malattie provocate dai virus facciamo spesso molta fatica a curarle, come si è visto. E invece le malattie provocate dai batteri noi abbiamo un'arma formidabile che sono gli antibiotici. Gli antibiotici non servono per le malattie provocate da virus, ma per le malattie provocate da batteri sì. Ben inteso, oggi c'è tutta una discussione sul fatto che anche i batteri si stanno rafforzando e che non è più così ovvio che gli antibiotici funzionino, ma insomma rimane il fatto che dagli anni 40 del secolo scorso le malattie provocate da batteri noi le riusciamo a curare con una certa, meglio diciamo, che non quelle provocate dai virus. La peste noi oggi la curiamo. Un'epidemia di peste sembra paradossale, ma riusciremo a curarla meglio che non l'epidemia che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. La peste è una malattia portata dagli animali, è una malattia che ha come bacino di diffusione i roditori, tipicamente nel nostro passato i topi, i topi che stavano nelle case, negli edifici, che ci stanno ancora spesso, ma insomma in passato a volte nei quartieri affollati delle antiche città o nelle case di campagna ce n'erano di più. I topi ma anche altri roditori, ne riparleremo, i roditori per esempio selvatici, gli scoiattoli delle pianure in America, ecco, quello è il bacino. La peste si sviluppa lì e poi viene trasmessa all'uomo nella forma più comune, la peste bubonica, viene trasmessa all'uomo dalla pulce che dopo aver morso il topo già ammalato, mordendo un uomo, gli trasmette il batterio. La parte enciclopedica finirà presto, ma diciamo ancora questo, che la peste si presenta tipicamente in due forme, la più comune, la più diffusa è anche quella che abbiamo tutti in mente, la peste bubonica. La peste bubonica è il che vuol dire che quando uno si ammala gli gonfiano i linfonodi, gli gonfiano i linfonodi delle ascelle, dell'inguine ed è quel sintomo che in passato appunto impressionava profondamente la gente, non ha torto, e che ha dato il nome di peste bubonica. Però, però intendiamoci, di per sé che gonfia il linfonodo è una cosa positiva, perché vuol dire che il linfonodo sta facendo il suo mestiere, sta cercando di arrestare la diffusione della malattia nell'organismo. Ed è solo quando non ce la fa che la peste bubonica diventa mortale, perché a quel punto subentra la setticemia. Quando subentra la setticemia succede anche che, come dire, c'è il blocco dei capillari sostanzialmente, c'è la coagulazione del sangue, dove non dovrebbe, in tutto il corpo, e quindi ti compaiono anche i lividi, le macchie nere sulla pelle, e c'è la necrosi delle dita, degli arti, che è il motivo probabilmente per cui è stata chiamata a un certo punto peste nera. Poi c'è l'altra forma, che in realtà è più grave, perché la peste bubonica ha una mortalità molto alta, ma insomma quella che ha la letalità più alta in assoluto è la peste quando diventa polmonare. La peste polmonare ha una differenza, poi vedrete che nella storia conta questa cosa, c'è una differenza fondamentale, la peste bubonica ci vuole la pulce per trasmetterla, la peste polmonare no, la peste polmonare è come il covid, è il motivo per cui noi portiamo le mascherine, e cioè, come dire, la saliva la trasmette, e la peste polmonare ha una letalità ancora più alta della peste bubonica. Io avevo anche un elenco di sintomi, mi pareva di intravedere, ma non so, sapete, in realtà nel nostro immaginario la peste è carica così di orrori, ovviamente è una malattia spaventosa, però per esempio io mi ricordo di aver visto, sto uscendo un po' dalla mia scaletta, insomma, mi ricordo di aver visto film o sceneggiati o documentari in cui si fanno vedere i malati di peste a cui succedono tutte le cose possibili, eruzioni di sangue e così via, non è così, in realtà a parte i buboni la peste poi ha i sintomi di una tremenda polmonite, ti viene la febbre, ti viene mal di testa, e quando si ha dolori articolari, nausea, e quando si aggrava sonnolenza, letargia, delirio, soffocazione. Dopodiché, come diceva giustamente Paola Farinetti, nel nostro linguaggio e nelle varie lingue, almeno in quelle indoeuropee, a dire il vero non ho idea, nelle lingue non di ceppo indoeuropeo, ma nelle nostre lingue qui si è sempre usato peste o i suoi equivalenti, in antico greco loimos, mi pare. Quando si scatena la peste ad Atene qualcuno si ricorda di un vecchio oracolo, non so più di quale degli oracoli greci, il quale diceva, e loro sono nella guerra del Peloponneso contro gli spartani, quindi contro i Dori, e l'oracolo diceva, verrà la guerra dei Dori, e con essa la peste, loimos. Ora, in questo senso, nelle nostre lingue, indicava genericamente la malattia epidemica, la malattia con una mortalità molto forte e molto contagiosa. Poi noi oggi, che abbiamo un altro approccio, anziché agli oracoli, cerchiamo degli scienziati a cui credere, noi oggi, come dire, andiamo a vedere come sono descritte certe epidemie del passato, che sono sempre state chiamate la peste, e andando a vedere si dice, no ma questa roba qui non era la peste, la peste di Atene appunto, di cui muore Pericle, e la peste di Atene era probabilmente il tifo. Un'altra malattia, un'altra epidemia, scusate, che è passata alla storia, perché ha avuto un impatto molto forte, come peste, è la peste Antonina, e la peste cioè che devasta l'impero romano a partire dal regno di Marco Aurelio. La famiglia imperiale era la famiglia degli Antonini, per questo si dice poi nei libri di storia la peste Antonina. E non era la peste, non siamo proprio sicurissimi se era il vaiolo o se era il morbillo, che a noi può far quasi sorridere perché siamo abituati a considerare il morbillo una malattia infantile. In realtà, storicamente, il morbillo quando arriva in una popolazione che non l'ha mai conosciuta, dove non c'è nessuno immunizzato, il morbillo è una malattia spaventosa, devastante. È stato responsabile in parte dello spopolamento dell'America dopo l'arrivo dei coloni europei, per esempio. Quindi la peste Antonina che devasta l'impero romano fra il secondo e il terzo secolo è forse il vaiolo, forse il morbillo. Loro non ne sanno niente, per loro è la peste. Ed è una malattia che ha degli effetti, un'epidemia, che ha degli effetti storici potenti, perché l'impero romano si trova a corto di braccia. L'impero romano si trova a corto di popolazione, non dappertutto, non sempre, ma questa è una cosa che continua a ondate per generazioni. Diventa normale nell'impero romano che ci siano zone dove non c'è abbastanza gente. Cosa vuol dire non c'è abbastanza gente? Vuol dire che i latifondisti si lamentano, non abbiamo contadini, non riusciamo a coltivare tutte le nostre terre. Queste lamentele vengono indirizzate all'ufficio delle tasse, naturalmente. Per precisare, mi dispiace, ma non possiamo più pagare le stesse tasse che pagavamo gli anni scorsi. E poi chi si lamenta? Si lamentano i comandanti delle legioni, non abbiamo reclute, siamo a corto di gente. L'impero romano in quel momento, il governo dell'impero romano, la classe dirigente dell'impero romano, prende una decisione che per secoli permetterà all'impero di sopravvivere, e cioè facciamo entrare immigrati. Qui non si fa propaganda né per una tesi né per l'altra a livello politico, naturalmente, ma è un fatto che l'impero romano per generazioni e generazioni, dove ci sono dei vuoti, fa entrare gente, c'è tutta una svolta politica e ideologica in questo senso, la integra e la fa lavorare, o la ruola nell'esercito, e per secoli l'impero romano risponde alla peste con queste contromisure. Dopodiché la peste come la conosciamo noi, come la descrivono oggi gli scienziati, quella provocata dalla Iersinia pestis, è comparsa nel nostro mondo per la prima volta verso la fine delle invasioni barbariche. Siamo nel VI secolo, compare a Costantinopoli, la capitale dell'impero d'Oriente, compare al tempo dell'imperatore giustiniano, quello che ha fatto la raccolta delle leggi degli imperatori romani, il corpus iuris civilis. Dato che devasta Costantinopoli e l'impero all'epoca di giustiniano, passa alla storia come la peste di giustiniano, ma poi in realtà come fa la peste si ripresenta. La peste compare con una prima grande epidemia travolgente e poi torna, torna a distanza di pochi anni, ricompare in una zona, magari non nella stessa, in un'altra e per secoli accompagna la vita della gente. Per secoli è un pericolo sempre costante e per secoli è un fattore che riduce la popolazione, che impedisce alla popolazione di aumentare così come fa la popolazione umana quando è lasciata in pace. Noi se non ci sono minacce esterne proliferiamo, cresciamo e ci moltiplichiamo, come prescrive la Bibbia. Invece dopo la peste di giustiniano del VI secolo, per un paio di secoli, la peste continua a essere presente in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo arabo e questo vuol dire che quei secoli sono secoli di stagnazione, non c'è crescita, non c'è crescita demografica e nemmeno economica. Poi più o meno intorno al 750 d.C. sparisce. Nel 750 d.C. c'era un bambino che aveva probabilmente allora otto anni e che si chiamava Carlo e sarà poi chiamato Carlo Magno. L'impero di Carlo Magno è, come dire, il primo grande avvenimento di un'Europa dove la peste non c'è più, dove la peste non c'è più e dove quindi non è soltanto questione di un imperatore che è un grande generale, ha grandi ambizioni e fa grandi conquiste e grandi riforme, ma è anche questione di una popolazione che non è più falcidiata dalla peste e quindi può ricominciare a crescere. Non se ne parla più per secoli. Nel 750 il Medioevo è appena cominciato, potremmo dire, e i secoli fino al 750 sono davvero secoli appunto di declino, di stagnazione, di spopolamento, possono in qualche misura corrispondere all'immagine fantastica del Medioevo come secoli oscuri che tutti più o meno hanno in mente. Dopo no. Da Carlo Magno in poi l'Europa conosce secoli e secoli ininterrotti di crescita. Non solo aumento della popolazione, ma crescita culturale, crescita economica, crescita tecnologica. È l'Europa che dopo un po' comincia, come dire, ad avere le navi che un giorno porteranno Colombo in America. Le navi e le bussole e i sistemi di navigazione. È l'Europa che scopre le vie per l'Asia e che manda Marco Polo in Cina, ma mica solo lui, tanti altri. È l'Europa che con le crociate, per quanto uno possa essere d'accordo o in disaccordo con la spinta delle crociate, però esce, va a invadere altri continenti, come poi farà sempre di più per secoli. È un'Europa quindi quella medievale abituata alla crescita. Generazioni e generazioni, certo partendo da molto in basso, ma poi hanno costruito tutto ciò che del Medioevo è rimasto a noi, torri, castelli, chiese, opere d'arte, ed erano, come dire, in piena crescita e in pieno ottimismo quando la peste torna. La seconda ondata della peste, della vera peste, Iersinia pestis, nella nostra storia è quella che arriva in Europa nel 1347-48, quella descritta dal boccaccio nella cornice del Decameron, ne parleremo a fondo. Ed è un'epidemia che, come dire, dà una botta assolutamente inaspettata a un mondo medievale che, ripeto, anche se cominciava ad avere un po' di difficoltà, perché cominciavano a essere sovrappopolati e cominciavano a fare un po' fatica a dar da mangiare a tutti. Erano molti meno di noi, ma non avevano le nostre tecnologie, ovviamente. Ecco, prima che arrivi la peste c'è qualche decennio durante i quali si vede che le carestie sono più frequenti, i poveri mangiano meno bene. Però, insomma, sono ancora tutti sull'onda di una lunghissima crescita. A memoria Duomo non si ricorda altro che crescita. E invece l'epidemia gli taglia le gambe. Io non so se chi di voi si ricorda il Duomo di Siena. Il Duomo di Siena è una immensa chiesa, di gran lunga troppo grande per come Siena oggi, e quando è stato costruito ci stava tutta la popolazione di Siena dentro. E Siena era una ricchissima e prospera città dove girava un sacco di soldi nel 1300. A un certo punto i senesi, che avevano finito di costruire questo Duomo immenso, che è sproporzionato anche oggi, dicono facciamone uno molto più grande, perché se si continua a crescere, Siena, Caput Mundi, insomma, che non ci ferma nessuno, progettano di costruire un nuovo Duomo di cui quello che esiste oggi sarà solo il transetto. Siete presente, no? Il braccio corto della croce nella pianta di una chiesa. E cominciano. Quando uno va a Siena, di solito non ci bada perché ci sono mille cose da vedere. La prossima volta che andate, guardate, dal fianco del Duomo, viene fuori un muro altissimo, un pezzo di muro. Ci sono già due bifore pronte, hanno già fatto un pezzo di rivestimento di marmo e poi si sono fermati lì. È arrivata la peste anche a Siena, è morta metà della popolazione e anche il giro d'affari dopo non è più stato quello di prima e insomma non hanno più continuato. È rimasto quel pezzo di muro a ricordare le ambizioni e l'ottimismo di quello che era il comune di Siena prima della peste. Dopodiché la peste, come vi dicevo, ha questa caratteristica che arriva con una prima epidemia devastante ma poi non sparisce, torna. La peste è tornata nel 300, nella seconda metà del 300, ogni 10-15 anni, non più con lo stesso impatto della prima volta, però tornava. Non attraversava più tutta l'Europa, prendeva una zona, magari vent'anni dopo compariva in un'altra zona, ma ogni volta faceva fuori gente, non più così tanta, ma ogni volta ne faceva fuori. Il risultato è che la popolazione europea non riesce a riprendersi. Sapete che dopo un singolo disastro la tendenza naturale della popolazione umana è ci si accoppia e si fanno figli. Pensate al baby boom dopo la seconda guerra mondiale, la generazione più numerosa mai apparsa al mondo, subito dopo la fine del più grande disastro della storia umana, come probabilmente è stata la seconda guerra mondiale. Lì non ce la fanno perché la peste torna. Il risultato è che nel Rinascimento la popolazione europea, noi possiamo calcolare, che è circa la metà di quello che era nel Medioevo. Si è letteralmente svuotata l'Europa. E le cose vanno avanti così per molto tempo, benché la violenza della peste venga trattenuta, contenuta da misure di ogni tipo, ne parlerò più avanti verso la fine, per cui la sua virulenza non è più la stessa, ma non si esaurisce mai del tutto e poi è capace di tornare. Torna fino al pieno 600, addirittura all'inizio del 700. Quindi sono diciamo tre secoli abbondanti durante i quali una quindicina di generazioni dei nostri nonni sono vissuti in un mondo dove fra i mille problemi che uno doveva affrontare c'era anche il fatto che non si sa mai, non si sa mai quando potrebbe rispuntare. Però c'è chiaramente una capacità umana di contenerla, di evitare la diffusione, di ridurre il contagio. Le ultime grandi epidemie conosciute nella seconda metà del 600, inizio 700, sono tutte epidemie contenute che si riesce a far chiudere dentro una singola città. La peste di Londra del 1665, la peste di Copenhagen del 1711 che ammazza un terzo della popolazione di Copenhagen, però non esce. L'ultima peste in Europa è la peste di Marsiglia del 1720 che prende Marsiglia, lì un po' prende anche la Provenza ma riescono a fermarla, ne parleremo dopo, non dico solo con le mascherine ma siamo lì. E poi basta, e poi in Europa sparisce del tutto. in Europa, altrove no. Quando l'hanno studiata i medici? Quando è che hanno individuato il bacillo, la Yersinia pestis? L'hanno studiata quando la peste è tornata in grande stile, ma è tornata diciamo, ne riparliamo, la peste è tornata alla fine dell'Ottocento in India, in Cina, ed è tornata e c'è rimasta anche lì non più per secoli ma per decenni. La peste ha devastato l'India grossomodo fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in Cina anche oltre, ancora nei primi anni venti in Manciuria c'è la peste polmonare, ed è lì che viene studiata in modo moderno. Si chiama Yersinia pestis perché nel 1894, quando c'è la peste a Hong Kong, un batteriologo, credo mezzo francese e mezzo svizzero, che si chiama, forse di origine russa però, si chiamava Alexandro Yersin, isola il bacillo della peste, il batterio della peste, Yersinia pestis. Fino 800 inizio 900. Se qualcuno di voi si sta chiedendo quando è che è scomparsa del tutto, sappia che non è scomparsa affatto. La peste bubonica è tuttora presente nel mondo, ogni anno sono segnalati al mondo in media circa 600 casi di peste, che peraltro curiamo, per cui non tutti muoiono, qualcuno muore come sempre, però insomma la grande maggioranza guariscono. Circa 600 casi di peste con, sì, la statistica ultima dice in media un centinaio di morti all'anno. In tutti i continenti, la buona notizia è tranne l'Europa e l'Oceania, ma negli altri continenti la peste è tuttora endemica. La peste è presente negli Stati Uniti, dove l'ultima epidemia è stata a Los Angeles nel 1924, 30 morti. Epidemia, certo, rispetto a quella di una volta, però chi si ricorda il colera di Napoli negli anni 70 per esempio, anche lì credo 20 o 30 morti, però l'impatto emotivo. 30 morti a Los Angeles nel 1924, ma da allora la peste negli Stati Uniti non se n'è più andata. Ci sono in media sette casi di peste all'anno negli Stati Uniti, pochissimi morti, ma quattro morti nel 2015. La peste negli Stati Uniti è endemica fra i roditori delle praterie, nel sud ovest, Arizona, Colorado, New Mexico, California del sud, e lì nelle campagne che ogni anno capita che un agricoltore si fa mordere da una pulce che ha appena morso appunto uno scoiattolo, un topo infetto. E a riprova di quello che dicevo prima sul fatto che i sintomi non dobbiamo poi immaginarli, cioè l'aspetto spaventoso della peste è la mortalità. I sintomi di per sé sono brutti, come quelli di qualunque brutta malattia che ti ammazza, ecco, non sono così riconoscibili. C'è tutta una storia negli Stati Uniti di diagnosi sbagliate. Quando c'è stata l'epidemia a Los Angeles nel 1924, le prime diagnosi erano di polmonite o di malattia venerea per via dei buboni all'inguine. E ancora recentemente ci sono stati casi in cui c'era la peste ed è stata diagnosticata come appendicite acuta o meningite. Non è così facile ovviamente. Dopodiché, come vi dicevo, nella nostra storia e nella nostra cultura anche, la peste è presente a partire dalla grande peste del 1348. E io vorrei fermarmi un po' di più a raccontare quell'epidemia e a ragionare su quell'epidemia. La peste del 1348 è un avvenimento sconvolgente che colpisce tutti i contemporanei. Ben inteso, appena finisce si ricomincia a lavorare e si riparte. Ma finché dura è un avvenimento che veramente lascia un'impressione enorme. Il che vuol dire che c'è un'infinità di cronisti che ce ne parlano. Di cronisti, di letterati dell'epoca. Noi in Italia abbiamo quello che l'ha descritta meglio di tutti ed è il boccaccio, appunto. Sapete che il boccaccio, per ambientare il suo Decameron, ha questa idea. Diceva bene, dieci ragazzi, sette ragazze, tre giovanotti che se ne vanno in campagna, a passare un po' di tempo in campagna. Come faccio a giustificare una roba del genere? Specialmente il fatto che vanno le ragazze con degli amici maschi. Questo è un problema. Infatti l'idea parte dalle... date a rivedere la cornice del Decameron. L'idea parte dalle sette ragazze. Poi ci sono dei giovanotti loro amici e anche un po' innamorati che dicono ma verremmo anche noi. E subito le ragazze dicono ma scusate ma poi la gente parla, non si fa, nel loro mondo non si fa. Ma la peste ha sospeso un po' tutte le regole. Ha sospeso un po' tutte le regole. Loro che sono ricchi se ne vanno in campagna, in villa, per allontanarsi dalla città infetta e dunque Boccaccio lavora su questo pretesto. Ed essendo questo il pretesto del Decameron, lui racconta per noi. I suoi contemporanei lo sapevano ma lui lo racconta per i posteri. Cosa è stata quell'epidemia? Era il 1348, dice, quando nell'egregia città di Firenze, nobilissima oltre ad ogni altra italica, pervenne la mortifera pestilenza. Al quanti anni davanti nelle parti orientali incominciata. Non parlavano così nel Trecento, sapete che è Boccaccio che aveva la passione di scrivere con la sintassi latina, mettendo il verbo alla fine. E quindi c'è sempre il verbo alla fine, che non era, ripeto, l'uso normale dell'italiano del suo tempo. Incominciata quindi in Oriente, anni prima, quelle, le parti orientali, l'Asia, avendo private di innumerabile quantità di viventi, senza ristare di un luogo in un altro, continuandosi. Capite cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che loro lo sapevano che arrivava. Era cominciata anni prima, in Asia, e loro con l'Asia avevano rapporti continui, rapporti commerciali, solo commerciali in pratica, diciamo ma li avevano e come? Quindi si sapeva, si sapeva che c'era questa cosa e si sapeva che si spostava, che non stava ferma, che veniva verso di noi. E siccome sapevano che stava arrivando, cercano di prendere dei provvedimenti. Boccaccio descrive quelli di Firenze, che peraltro era uno dei luoghi più moderni e avanzati del mondo. Non è detto che dappertutto abbiano pensato di fare le stesse cose, ma a Firenze sì. Cosa fanno a Firenze? Sapendo che c'è questa malattia in Asia che si sta muovendo e viene verso di noi. A un certo punto decidono che bisogna ripulire la città dall'immondizia. Loro non hanno idea delle cause ovviamente del contagio, però hanno a buon senso l'idea che l'igiene servirebbe. E quindi ripulire la città. In un comune italiano come Firenze questo significa creiamo un ufficio che ha il compito di preoccuparsi di rimuovere le immondizie dalla città. E lo fanno. Ah, il Boccaccio però prima di elencare questi provvedimenti ha già avuto cura di dire non è servito a niente. Nessuna cosa che abbiamo fatto è servita. Cosa abbiamo fatto? Rimuovere le immondizie, certo. E' vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo. E cioè quando uno entrava si controllava che non fosse malato. E va bene. E molti consigli dati a conservazione della sanità. Cosa vuol dire? che a un certo punto avranno chiamato i dottori, i medici e gli avranno chiesto ma secondo voi cosa dobbiamo fare? E i medici avranno dato ciascuno il suo parere, la sua opinione e dice Boccaccio servito a niente. E poi c'è l'altro insieme di contromisure che non è servito a niente allo stesso modo. Umili supplicazioni. Non una volta ma molte e in processioni ordinate e in altre guise. A Dio fatte dalle divote persone. Ora notate bene. Questa ovviamente è la reazione che magari ci aspetteremo di più perché in base ai nostri luoghi comuni su che gente era questa del medioevo magari che creassero un ufficio di sanità ce l'aspettavamo un po' meno. Che facciano le processioni ce l'aspettiamo. E continueranno a farle anche dopo e gli illuministi poi ne rideranno come il Manzoni ride nei promessi sposi del fatto che a Milano fanno le processioni sperando di scongiurare l'epidemia. Certo. Ma notate bene. Boccaccio non dice e tutti ci siamo messi a pregare. Le persone devote hanno fatto quello. Quello era un mondo dove erano tutti credenti. Però anche lì c'era una bella differenza tra chi diceva guarda io a questo punto vado a pregare e chi diceva scusa sentiamo i medici e vediamo cosa dicono. Però sta di fatto che non è servito a niente. La peste è arrivata. Nella primavera dell'anno predetto. Orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti a dimostrare. E non come in oriente aveva fatto. Dove in Asia per quanto risultava loro dalle notizie che avevano a chiunque usciva sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte. Questa cosa è interessantissima perché se è vero e non l'avrà mica inventato vuol dire che in Asia era la peste polmonare perché è la peste polmonare che ti fa poi come dire vomitar sangue non quella bubonica. E quindi se è vera questa cosa la peste era polmonare in Asia invece quando arriva qua è la peste bubonica. Boccaccio lo descrive chiaramente. Dice no non c'era questo fatto di vomitar sangue o di perdere sangue dal naso dice lui. Ma nascevano appunto a linguine o sotto le ascelle certe infiature delle quali alcune crescevano come una comune mela e altre come un uovo. Alcuna più e alcuna meno. Le quali li volgari chiamavano, nominavano gavoccioli. Li volgari cioè quelli che parlavano italiano. Non c'era una parola. La devono inventare. Non si era mai vista questa malattia. E mentre noi diciamo il bubone i fiorentini all'inizio quando arriva questa cosa la chiamano il gavocciolo. Il gavocciolo mortifero. E dopo che spuntavano i buboni venivano le macchie nere o livide per le braccia e per le cosce in ciascun'altra parte del corpo. Certissimo indizio di futura morte. Cos'altro dice Boccaccio? Dice tutti si sono messi a pensare come curare questa malattia. Mai visti così tanti esperti di medicina autonominati come in quel momento. Anche lì lui sapendo già come è andata a finire dice tutto inutile, tutti ignoranti. L'ignoranza dei medicanti. Dei quali oltre al numero degli scienziati c'erano poi tutti gli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quel mondo i medici c'erano e avevano studiato anni e anni all'università. Erano laureati, solenni, molto ben pagati. Alcune cose le sapevano anche fare. In chirurgia se la cavavano già in alcune cose. Avevano capito certe cose ma purtroppo gli studi che avevano fatto si basavano sulla dottrina del corpo umano ereditata dagli antichi. Non è questione di ignoranza medievale. Qui è l'eredità del mondo greco e romano che aveva trasmesso alle università medievali una visione del corpo umano molto interessante. Tutta fatta di equilibrio fra gli umori, equilibrio fra il sangue, il fiele, il caldo, il freddo. Molto interessante ma fondamentalmente non utile per curare le malattie. E quindi gli scienziati, come dice Boccaccio, rispettatissimi, ultrapagati, però non riuscivano a curare la peste. Ma non ci riuscivano, dice neanche gli altri, dei quali era il numero divenuto grandissimo, così di femmine come duomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta mai. In altre parole è pieno di gente che si inventa curatore, che è convinto di averla cura. E notate, così di femmine come duomini. Se mette le femmine al primo posto vuol dire che era molto comune, che ci fossero donne che pensavano o che provavano, ci si mettevano, cercavano di curare i malati. E non è un caso, perché in realtà, ecco, mentre il solenne medico uscito dall'università era sempre un uomo ovviamente, però nel loro orizzonte mentale stare accanto ai malati era invece una delle cose che normalmente sapevano fare e facevano le donne. Sapete, quella era una società ovviamente patriarcale, maschilista, dove i ruoli erano molto separati, tutti i ruoli pubblici, il lavoro, la politica, la guerra, lo fanno gli uomini. La donna ha gli spazi privati, certo, la casa, le vari bambini, ma ha anche nella loro mentalità la donna totale responsabilità sui due momenti cruciali della vita, la nascita e la morte. La nascita è ovvio, è lei che ce l'ha dentro la pancia, però forse quello che è un po' meno ovvio è che al momento del parto poi sono tutte donne. Al momento del parto vengono le sorelle, le amiche, le vicine di casa a stare insieme alla puerpera, a confortarla, aiutarla, a dare suggerimenti. Ci sono anche quelle che se ne intendono, che ne hanno visti altri di parti, gli uomini fuori dai piedi. È la stessa cosa quando c'era il momento della malattia e della morte. I malati avevano sempre donne intorno e quando uno moriva erano le donne che facevano il pianto e che si occupavano di preparare il corpo per la sepoltura. Era una cosa totalmente ufficializzata, nel senso che se un uomo ci avesse messo il naso, le donne gli avrebbero detto fuori dai piedi. Questa è una cosa che facciamo noi. Anzi c'è un caso specifico, divago un pochino ma ve lo racconto. Lo racconta Dante nella vita nuova. È capitato a lui. Avete presente? Dante è giovane, giovanissimo, innamorato perso di Beatrice, cerca ogni occasione di vederla. Non è mica tanto facile. Beatrice finché è da sposare sta chiusa in casa, come si usava a Firenze, e quando poi è sposata è una donna sposata. E lui invece che ha la stessa età è un ragazzino. Lei è una donna sposata, 18 anni, è adulta, madre di famiglia, padrona di casa. Lui è ancora un ragazzino sperso, innamorato. Cerca ogni occasione di vederla. Muore il papà di Beatrice e Dante va a casa dei portinari a vedere se riesce in qualche modo a vedere Beatrice. Beatrice è dentro casa che piange. E Dante lo racconta. Io sono arrivato lì ma non ho mica potuto entrare. Perché come è d'uso a piangere con la famiglia entrano le donne. Gli uomini stanno fuori. E quindi lui se ne è rimasto fuori con gli altri uomini. E pensando a Beatrice che era dentro e al suo dolore dice mi veniva da piangere. Cercavo di non farmi vedere. Si vergognava un po'. E quando escono le donne che sono state dentro a piangere con Beatrice e lo vedono piangere, lo sgridano. Gli dico ma lascia piangere noi. Noi l'abbiamo vista Beatrice come sta male, come soffre. Noi piangiamo. Tu sei qua fuori cosa piangi? Sei un uomo. Ecco. A questo punto capiamo cosa significa la trasformazione veramente di tutte le abitudini prodotta dall'epidemia. Non è che man mano che io parlo salgono sempre più mascherine nel pubblico, vero? È un effetto non voluto. Io sono abbastanza lontano, spero di poter stare senza parlare con sarebbe davvero un poco. No, dicevo capite cosa significa lo sconvolgimento di tutti i valori provocato dall'epidemia quando Boccaccio dice i malati venivano lasciati soli, morivano da soli, senza donne intorno. Non solamente senza aver molte donne d'attorno morivano le genti, ma assai nera, no? Ce n'erano molti che di questa vita senza testimonio trapassavano. E per un uomo di allora è una cosa inconcepibile. Non si muore mai soli, si muore sempre con la gente intorno e all'ultimo momento donne. Ora, quali altre cose dice Boccaccio di questa malattia su cui possiamo fare qualche ragionamento? Descrive, abbiamo visto i sintomi, ma poi descrive altre caratteristiche dell'epidemia. E sono indiscutibili e sono le stesse cose che raccontano altri cronisti in tutta Europa. Primo, la mortalità è altissima, pochi di quelli che si ammalano guariscono. Non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti entro il terzo giorno dall'apparizione dei segni, chi prima e chi dopo, e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. Qui uno comincia a dire stanno senza febbre, per come è descritta dai medici nostri a partire dalla fine dell'ottocento, la febbre c'è, come? Vabbè, andiamo avanti. È estremamente contagiosa. E fu questa pestilenza di maggior forza perciò che essa dagli infermi si avventava ai sani. Sempre Boccaccio, si avventava. Non altrimenti che faccia, cioè così come fa il fuoco alle cose secche o unte quando molto vi sono avvicinate. Capite? La loro sensazione è che basta avvicinarsi a uno che è malato e te la prendi anche tu. Ti salta addosso. Prende come prende il fuoco quando gli metti un pezzo di carta o unta vicino. Per cui non soltanto parlare con gli infermi, fare qualunque cosa insieme a loro ti faceva ammalare, ma bastava toccare i loro panni o qualunque altra cosa che loro avessero toccato ti saltava addosso. Anche su questo faremo poi il confronto con la peste bubonica portata dalle pulci come la conosciamo noi oggi. Finalmente dice Boccaccio, ma lo dicono anche altri, ammazzava anche gli animali. Boccaccio dice l'ho visto io, gli animali domestici, l'ho visto io, ho visto due maiali per la strada, avevano buttato via gli stracci di un poveraccio che era morto di peste, i maiali si sono messi a grufolare e poi sono cascati morti tutte e due. Come se veleno avessero preso. Ora quest'ultimo è uno di quei casi su cui io mi riserverei di dire ma Boccaccio senti sei un inventore di novelle, io ho la mano sul fuoco su questa cosa che veramente fa pugni con tutto quello che sappiamo perché la peste a quel tipo di animali lì non si trasmette. Insomma queste cose che vi ho detto di Boccaccio confermate dagli altri testimoni non solo nel 300 ma poi via via per tutte le pesti che abbiamo conosciuto in Europa fino a fino a Marsiglia 1720 ecco è confermata anche da tutti gli studi che si sono fatti per il 300 è difficile ma più avanti si possono riesumare dei morti di peste e si possono conoscere anche delle statistiche. Un piccolo villaggio nel 600 il parroco ormai ha l'abitudine trascrive ogni nascita ogni matrimonio e ogni sepoltura in un libro quindi tu puoi fare delle statistiche a quel punto. Ebbene fino all'inizio del 700 la peste come l'abbiamo conosciuta noi in Europa è una malattia molto contagiosa tanto che colpisce le famiglie e le devasta sono state fatte delle statistiche su questo quando lo puoi fare i morti di peste in genere sono l'unico della loro famiglia che muore o in genere quando uno si muore di peste muoiono anche altri? Seconda risposta in genere muoiono anche altri della stessa famiglia e si trasmette per contatto diretto immediato fra umani ed è non solo contagiosissima ma ha una mortalità altissima. Ora da un po' di tempo gli storici si sono detti va tutto bene però quello che ci raccontano i medici non è mica questo i medici che hanno descritto la peste in cina in india alla fine dell'ottocento all'inizio del novecento non hanno visto queste cose l'unico parallelo vero è i buboni ma per il resto la peste bubonica per esempio in india si è studiata la trasmissione è lentissima in india nel 1896 c'erano le ferrovie che non c'erano nell'europa del trecento e tuttavia la peste avanza molto lentamente ed è poco contagiosa da uomo a uomo da umano a umano scusate poco contagiosa è normale che uno si ammala in famiglia si fa in tempo a prenderlo a metterlo in ospedale isolarlo il resto della famiglia tranquillo ancora più straordinario in queste grandi epidemie di peste dell'otto novecento in cina e in india curate già da medici e infermieri occidentali ma non ci sono ancora gli antibiotici quindi curano come possono ma il personale medico si ammala pochissimo medici e infermieri sono continuamente a contatto con i malati e non si ammalano perché perché ci vuole la pulce e per quanto capiti ma non è così ovvio che appena ti avvicini a un malato c'è una pulce che appena morsicato lui e ti salta addosso e morde te ce ne vuole insomma non è così non è come le goccioline adesso abbiamo imparato tutti che si chiamano i droplet di saliva cariche no ecco di bacino non è quello poi anche la mortalità è diversa la peste bubonica che investe l'europa nel passato è una peste è una malattia che quando si impadronisce di una località la devasta la peste di copenhagen nel 1711 fa 22.000 morti su 60.000 abitanti della città un terzo in pochi mesi ora la peste che attraversa l'india e la cina fra otto e novecento fa un sacco di morti e adesso che vi dirò la cifra vi stupirete però però dovete pensare a quanto tempo ci mette e alle popolazioni immense di quei paesi la peste ecco in india dal 1896 al 1914 ha fatto 12 milioni di morti però vuol dire il 4% della popolazione in 20 anni capite che la peste come la conosciamo noi sterminava un terzo della popolazione in sei mesi non è una misura comune c'è poco da fare ancora oggi la peste bubonica prospera nei climi tropicali perché nei climi freddi le pulci non ce la fanno e quindi appunto il sud ovest degli degli stati uniti il perù il madagascar oggi sono questi i bacini della peste bubonica la peste storica dal 300 al 600 è devastante anche in scandinavia e la peste bubonica essendo legata ai cicli vitali delle pulci è una malattia estiva fondamentalmente coi primi freddi diminuisce e sparisce e invece la peste storica non lo fa la peste storica è capace di scoppiare all'improvviso e devastare la popolazione anche in pieno inverno ultima cosa appunto cronisti medievali e scrittori medievali come boccaccio dicono morivano i cani i gatti i maiali questo stupisce molto i nostri scienziati oggi devo dire ma nessuno dice che morivano i topi che invece è la cosa assolutamente vistosa delle epidemie di peste conosciute in tempi moderni tanto che ci ha fatto un grossissimo lavoro albert camus nel suo romanzo la peste che qualcuno di voi avrà forse letto io l'ho riletto confesso in questo periodo benché sia un po banale ma lo fa per caso me lo sono trovato fra le mani mettendo a posto dei libri e mi sono detto guarda lo rileggo sapete cosa fa camus camus negli anni 40 scrive questo romanzo la peste in cui immagina la peste che si scatena in una città moderna nel suo caso orano in algeria e quindi una città francese a pieno titolo negli anni 40 piena di francesi piena di automobili di negozi di treni di giornali tutto quanto ecco camus immagina la peste che si scatena in una nostra città ma la vera peste quella bubonica quella che ammazza metà della popolazione della città e avendo studiato bene lui la descrive con estrema precisione clinica e quello che fa vedere è quello che sicuramente succedeva con la peste bubonica in india in cina alla fine dell'ottocento quella che conosciamo noi insomma cosa succede succede che un bel giorno il protagonista esce di casa alloggi in un condominio esce di casa fa le scale a piedi c'è un topo morto per le scale va dal portinaio e gli dice mi sbaracchi un po questa schifezza il portinaio obbedisce giorno dopo scende le scale due topi morti per le scale col sangue sul muso va dal portinaio il portinaio dice ma sa ma sa che in tutto il vicinato sta succedendo le trova dappertutto guarda ormai anche per la strada che dio ce la mandi buona qualche giorno dopo il protagonista che è medico deve andare a visitare il portinaio che si è sentito improvvisamente male e lo trova a letto con la febbre altissima e col gonfiore ecco così scoppia la peste ora nessun 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 autore né medievale né successivo ha mai notato che prima della diffusione della peste uscivano i topi a morire per le strade possibile voi vi aspettereste forse che io adesso vi dicessi sappiamo esattamente come mai ci sono tutte queste stranezze non è affatto così non lo sappiamo ma il punto è che noi oggi descriviamo la peste provocata dagli ersini a pestis e non siamo mica tanto sicuri che fosse davvero quella cosa lì quella che ha attraversato l'europa dal medioevo all'età moderna era probabilmente una forma della stessa cosa ma è cambiata questa è un'altra cosa che abbiamo imparato no che cambiano gli effetti delle malattie nel nostro che nel nostro mondo moderno dove tutto velocissimo cambiamo da un mese all'altro addirittura è cambiata non corrisponde l'altra domanda cui uno vorrebbe poter rispondere naturalmente ma come mai poi dopo l'inizio del settecento dall'europa è sparita qui noi una risposta proviamo a darla non è la certezza assoluta ma insomma ci stiamo ancora la peste ha perso via via di efficacia e anche qui non è uno spot governativo perché le contromisure umane benché non fossero in grado di curarla sono però riuscite a contenerla a impedirle di diffondersi le contromisure sono state elaborate fino al primo momento in europa e in particolare a partire dall'italia abbiamo già visto le misure preventive addirittura anche se il boccaccio dice non sono servite a niente però gli ufficiali cioè i funzionari incaricati di sgombrare le immondizie e così via quando si accorgono che la peste non è arrivata solo quella prima volta e poi è andata via ma torna mettono in campo abbastanza in fretta tutto l'armamentario delle contromisure che noi abbiamo messo in campo in questa occasione le stesse tali quali le hanno inventate loro le hanno inventate alla fine del medioevo nella prima età moderna e cioè e cioè appena uno si ammala isolarlo non lasciarlo andare in giro isolare anche quelli che hanno avuto contatti con lui e poi e poi a quel punto bisogna sapere che qualcuno sia ammalato quindi attenzione bisogna che i medici siano responsabilizzati e che quando c'è un caso strano informare le autorità perché potrebbe essere la peste e dobbiamo anche sapere quando c'è la peste da un'altra parte bisogna avere una rete di informazioni che arrivano perché se noi stiamo ad alba e sappiamo che a torino c'è la peste allora sulle strade si mettono i posti di guardia sulla strada di torino non arriva più nessuno non li lasciamo venire e quindi informazione isolamento e chi arriva da zone dove potrebbe esserci rischio la quarantena tutte queste cose vengono messe in piedi a partire dalla fine del medioevo e per primi sono i comuni italiani che hanno appunto l'apparato amministrativo e la cultura amministrativa più avanzata del mondo in quel momento che mettono in campo queste cose i comuni italiani mettono in piedi gli uffici di sanità permanenti incaricati di controllare le cose il resto d'europa ci arriva un po dopo in scandinavia che oggi appunto è tanto più avanzata di noi in danimarca aspettano all'inizio del cinquecento perché gli venga in mente che magari potrebbero provare a prendere qualche misura tipo quarantena isolamento ma lo fanno all'inizio solo per proteggere il re e la corte solo a fine cinquecento viene in mente che magari si potrebbero prendere misure generalizzate a tutela della salute pubblica fuori d'europa anche meno nel mondo musulmano nell'impero ottomano che allora governa gran parte del mondo musulmano affacciato sul mediterraneo che è un impero sofisticato coltissimo e tutto però però questa idea occidentale che si possa prevenire che valga la pena di farlo non prende piede per inefficienza amministrativa probabilmente ancor più che per fatalismo però non lo fanno e il risultato è che ancora nell'ottocento nel mondo arabo e turco la peste è presente napoleone la incontra quando va in egitto napoleone trova la peste e ci sono dei suoi soldati che si ammalano poi a metà ottocento anche l'impero turco comincia a modernizzarsi arrivano i riformatori che dicono facciamo anche noi come in europa cominciano anche loro con le quarantene e la peste scompare anche lì e naturalmente come dire l'unica nostra spiegazione è questa quindi queste misure grossomodo funzionavano queste misure hanno fatto sì che la malattia via via riuscisse a proliferare di meno e si indebolisse quando le contromisure venivano applicate come si deve tutte le ultime grandi epidemie di peste che ho citato prima che in genere si riesce a contenere in una singola città con un po di sforzo ma nascono tutte da leggerezze perché perché applicare le misure con rigidità come come oggi anche allora dava fastidio anche allora gli affari soffrivano anche allora gli imprenditori protestavano anche allora le autorità prima di dire chiudiamo tutto ci dovevano pensare due volte e anche allora c'era chi cercava ovviamente di aggirare le contromisure la peste di marsiglia nel 1720 scoppia perché attracca nel porto di marsiglia una nave che proviene dalla siria e in siria c'è la peste quindi quarantena però c'è un carico deperibile e che vale molto e alla fine alla fine alla fine le autorità si lasciano convincere abbreviano la quarantena e dalla nave scende a terra con le merci la peste e anche lì prima di dire la peste chiudiamo tutto ci pensano perché perché appunto ci sono degli interessi grossi per non farlo alla fine lo fanno ma è tardi è già uscita devasta la provenza ultimissima cosa se avete ancora dieci minuti di pazienza l'ultimissima cosa che volevo raccontarvi è com'è che in passato queste epidemie hanno provocato non solo trasformazioni drammatiche ma si sono anche rivelate un'occasione per ripensare certi meccanismi dell'economia e della società favorendo quelli che riuscivano a capire insomma quali erano le nuove tendenze mi spiego meglio una prima cosa che va detta che può suonare molto cinica e voi mi siamo addirittura metà della popolazione se non metà un terzo adesso non è per spaventarmi ma capite cosa vorrebbe dire vorrebbe dire facciamo la conta tu sì tu no tu sì tu no tu sì tu no ecco una quantità di dolore spaventoso capita di raccontare queste cose a volte sorridendo per la passione di studiarle di saperle ma è chiaro che siamo consapevoli del carico di dolore che si porta dietro un'epidemia però va anche detto che quando è finita la gente si guarda intorno hanno ereditato tutti la quantità di alloggi disponibili di edifici di imprese di merci di tessuti preziosi di moneta è rimasta la stessa che c'era prima solo che siamo in metà a dividercela e quando riapro bottega il mio concorrente è morto si riparte il problema come vi dicevo è che la peste dieci anni dopo torna di nuovo e quindi in realtà si riparte ma a balzelloni a singhiozzo e si fa sempre un po fatica ma le conseguenze importanti sono quelle strutturali quando cioè diventa evidente che ormai la popolazione è ridotta rispetto a prima e non c'è niente da fare qui succedono delle cose interessanti immaginate il tipico industriale della lana che finita l'epidemia vuole ripartire industria della lana è l'industria dominante delle nostre città nel medioevo è un'industria a tutti gli effetti nel senso che organizzata su larga scala naturalmente non ha le macchine qualche macchina ce l'ha macchine idrauliche spinte dai fiumi dai canali per pressare i tessuti ma il grosso del lavoro è manuale naturalmente e non c'è il capannone dove si concentrano gli operai però c'è l'imprenditore l'imprenditore è quello che importa la lana all'ingrosso dall'italia meridionale dalla spagna più tardi dall'inghilterra ogni giorno entrano carovane di muli carichi di sacchi di lana grezza che poi viene data da lavorare e c'è tutta una fase di lavorazione bisogna lavarla pettinarla pulirla e poi tesserla e ci sono operai specializzati in tutte queste attività che lavorano a casa il padrone distribuisce il lavoro poi passa a ritirare distribuisce per la prossima fase ad altri operai e così via ora immaginate cosa succede il padrone riapre contatta gli operai il primo che va a cercare non risponde nessuno sono tutti morti dicono i vicini secondo che va a cercare apre dice ah grande padrone si ricomincia a lavorare benissimo io per me sono pronto però c'è una cosa quei dieci soldi al giorno che mi pagavi prima non mi bastano più ne voglio dodici la reazione del padrone di dire te lo scordi canaglia sempre pronti a approfittarsene vado dal prossimo il prossimo è morto non c'è poi l'altro ancora c'è ma dice ma mi ha già assunto il concorrente paga tredici soldi al giorno a questo punto la reazione normale dei padroni è primo di dire certo c'è la crisi non se ne può più queste massa di scazzacani di furfanti che sono i nostri dipendenti adesso vogliono pure l'aumento di stipendio ma so io come sistemarli si va dalle autorità del comune si dice fateci per piacere una bella legge che fissi un tetto massimo ai salari che impedisca la concorrenza di pagare così tanto lo fanno non serve niente i concorrenti se vogliono operai devono pagare e la stessa cosa in campagna dove il padrone dei campi di grano che ha già le mani nei capelli perché è morta così tanta gente non c'è più così tanta richiesta negli anni buoni per fortuna ogni tanto arrivano le grandi negli anni cattivi c'è poco grano e quindi i prezzi schizzano in su ma negli anni buoni e per di più i braccianti vogliono essere pagati più di prima e per forza prima della peste andavi in piazza al mattino era pieno di disoccupati che aspettavano solo uno che gli dava da lavorare per quattro soldi come oggi gli immigrati che raccolgono la nostra frutta e invece e invece non li trovi più e quelli che sono pronti a lavorare vogliono essere pagati di più i padroni fanno fuoco e fiamme ma poi pagano gli operai guadagnano meglio gli operai del 300 del 400 fino all'inizio 500 sono pagati meglio gli operai braccianti in campagna rispetto ai nonni tanto tempo prima cosa fanno con questi soldi? Beh primo si mangia a sazietà e prima non era così bene non era mica sicuro se uno aveva troppi figli col salario della giornata non è detto che riusciva a riempire proprio la pancia a tutti adesso se Dio vuole si mangia tutti a sazietà pane e zuppa ben inteso ma si mangia a sazietà e dopo che hanno tutti mangiato a sazietà all'operaio sono rimasti dei soldi in tasca cosa fa? Una volta raccontavo più o meno questa storia in una riunione di manager di non so più quale impresa e quando gli ho chiesto di provare a rispondere e immaginare l'operaio a cui sono rimasti un po' di soldi in tasca cosa fa? Uno mi ha risposto investe ecco no non investe va all'osteria va all'osteria e beve vino e il commercio del vino va benissimo mentre quello del grano come si diceva ecco ma il commercio del vino va a meraviglia aprono nuove osterie e sono sempre piene di clienti e chi produce vino in campagna si accorge che gli affari vanno benissimo la città vuole vino e ne fa venire sempre di più poi l'operaio torna a casa la sera e la moglie va a frugare in tasca e c'è ancora qualche soldino avanzato cosa ne fanno? domenica si mangia carne e magari anche il sabato si mangia, no il sabato no loro facevano venerdì e sabato scusatemi mi sto perdendo astinenza naturalmente digiuno anche il sabato giovedì a quel punto o mercoledì si mangia carne prima era difficile adesso ci sono i soldi per farlo e noi abbiamo le prove perché abbiamo i registri fiscali di tutte le attività che c'erano in una città italiana a fine 300 nel 400 tutti i negozi aperti pieno di macellerie c'erano più macellerie ad Asti o ad Alessandria nel 400 di quelle che ci sono oggi mangiavano essenzialmente pecora pecora, agnellone, montone, raramente bovini ma insomma mangiavano carne e i macellai fanno un sacco di soldi e chi alleva bestiame in campagna fa i soldi la città vuole bestiame sempre di più a questo punto chi sta in campagna e ha la terra se ha capito come vanno le cose comincia a dirsi ma chi me lo fa fare di continuare a produrre grano che tanto lo smercio non è più quello di una volta e richiede tanta manodopera che vuole essere pagata ma io via tiro via i campi di grano faccio dei bei prati e ci allevo del bestiame però i prati bisogna irrigarli perché il prato secco non vale niente non rende niente se voglio fare due o tre bei raccolti di fieno devo irrigarli, ci vuole l'acqua bisogna investire e investiremo canali di irrigazione che c'erano già prima perché in tutto il medioevo c'è un enorme lavoro nelle nostre campagne per scavare canali di irrigazione e rendere più fertile la terra però dal 300 in poi c'è un salto in avanti cominciano anche a esserci iniziative politiche grandi canali scavati per incarico del governo la rete delle rogge, delle bealeere non so come le chiamate qui da queste parti ecco si estende sempre di più sempre più prato, marcita, pascolo sempre più bestiame tanto che qualcuno comincia a dire sai cosa c'è ci faccio anche il formaggio prima il formaggio si faceva solo in montagna agli alpeggi in montagna nel rinascimento si fa anche in pianura a Piacenza fanno un formaggio meraviglioso il piacentino che se lo comprano anche i sultani se lo fanno venire a Costantinopoli poi siccome Piacenza viene divorata da Parma il formaggio cambia nome e tutti lo chiamano il parmigiano ma originariamente era diffuso il nome il piacentino ma fatto sta che la pianura padana comincia a produrre formaggi e chi ha capito che la tendenza è quella così come chi ha capito che tira forte il vigneto e bisogna fare vino ecco fa i soldi finalmente chiudiamo ogni sera quando l'operaio tornava o il bracciante tornava dall'osteria la moglie gli ha tirato via un soldino avanzato e l'ha messo nel salvadanaio alla fine dell'anno hanno un po' di soldi risparmiati cosa si fa? si va dal mercante di tessuti e per una volta ci facciamo un abito come si deve perché finora la povera gente si vestiva di tessuti tutti i tessuti in casa tutte le contadine avevano il telaio facevano tessuti grezzi non tinti e ci si vestiva con quelli ma adesso se ci sono i soldi ci vogliamo permettere un abito come si deve ovviamente non come quelli dei ricchi si va dal negoziante di tessuti noi non vogliamo velluti non vogliamo broccati non vogliamo seta quelle sono cose per i signori vogliamo un bel panno resistente che tenga anche se non è di gran qualità ecco risultato quei centri di produzione tessile come Firenze che si ostinano a produrre tessuti di lusso per la clientela dei ricchi tirano avanti così così ma è pieno di località dove si è capito l'aria che tira e dove nascono centri di produzione del tessile dove i regolamenti ufficiali dicono qui si produce panno di cattiva qualità le città della pianura padana anche qua in Piemonte racconigi pinerolo cominciano a prosperare nascono corporazioni di produttori di lanaioli i quali dicono proprio nei loro statuti il panno nostro non deve costare più di quel livello lì perché noi miriamo a quel e non dicono quel target viva Dio ma insomma quello che intendono dire è quello e chi ha capito questo prospera allora non è ovviamente per concludere a tutti i costi con una forzatura e un messaggio di ottimismo perché tutte queste belle cose possono succedere solo dopo che la popolazione sia dimezzata quindi diciamo noi dovremmo trovare altre risorse per essere ottimisti nella situazione attuale ma comunque ho pensato che questo fosse il modo giusto per concludere grazie